Ragazzi, oggi parto con una chicca. Avete presente quella funzione di Facebook? Io Facebook ormai lo uso praticamente soltanto per guardare i ricordi e quindi proprio oggi mi è apparsa questa cosa nei ricordi, con la funzione appunto dei ricordi, che vi fa vedere quello che è stato postato negli anni precedenti. Allora, nel 2015, quindi esattamente otto anni fa da oggi, condividevo quel video di Bonucci che risponde al giornalista del Napoli in cui gli fa la domanda, c'è differenza in Europa, la musica è ben diversa, c'è qualcosa di diverso in Europa rispetto all'Italia oppure qualche errore di troppo a favore della Juve c'è? E Bonucci rispondeva la differenza è che noi siamo agli ottavi di Champions e voi siete in Europa League. Contestualizziamo ad oggi, il Napoli agli ottavi di Champions, noi siamo in Europa League, ci prepariamo ad andare ancora a giocare al Maradona e questa volta loro sono sopra. E proprio da qui voglio ripartire per analizzare la conferenza stampa di presentazione della vigilia di Massimiliano Allegri. Oggi credo che Allegri abbia sfoderato tutto il suo repertorio da troll, perché Massimiliano Allegri è il classico troll. Io sono convinto, sicuro, certo, al 100% che Allegri abbia un profilo fake con cui commenta su Twitter, abbia un profilo fake con cui commenta video su YouTube, abbia un profilo fake con cui va a monitorare tutto il mondo del web. Lui dice non mi piace, qui e là, sono uscito, distaccato, uomo all'antica. 157% di probabilità che Allegri in realtà tenga tutto sott'occhio, tutto monitorato, perché è veramente dato le risposte. Adesso andiamo ad analizzare la conferenza stampa. Prima di tutto vi ricordo di scaricare il numero 10. Perché? Perché ci sono dei miei articoli scritti da me. E non solo. Quindi andatevi a scaricare il numero 10, perché poi ci saranno anche dei video esclusivi, come il post partita di Juventus Monza, di Serie A, in programma a fine gennaio. Completamente gratuito il link. Lo trovate qui sotto in descrizione. Classica domanda di rito, l'apertura di Juventus TV, come sta la squadra? Allegri dice, sta abbastanza bene, abbiamo fatto tre giorni di lavoro, vediamo domani sera cosa riusciremo a fare. Poi gli fanno una... Ah, vi dico, le prime 3, 4, 5 risposte, molto scassato, molto stizzito, molto annoiato, indispettito, serio. Poi inizia ad aprirsi un po' di più nel finale, dove inizia a trollare, infatti fa quella faccia, non è presente? La faceva mio nonno, era la tipica faccia da mio nonno. Quando sa che sta dicendo una bugia o qualcosa di non vero, ma lo dice lo stesso, gli scappa quel sorrisino falso in faccia, quel misto di un sorriso che vuole uscire, che vuole essere nascosto. E poi dice, Danilo sta facendo bene, così come stavano facendo bene tutti gli altri. L'atteggiamento comunque è cambiato, dobbiamo continuare su questa strada. Rientri imminenti. Prima di Monza, difficilmente rientrerà qualcuno, mentre con l'Atalanta sì. Quadradoro a martedì potrebbe essere con la squadra, forse è l'unico che può recuperare anche in Coppa Italia con il Monza. Gli altri stanno decisamente meglio, siamo fiduciosi. Come vi dicevo, ancora un po' sulle sue, chiuso, serio. Poi dice, Chiesa sta meglio e sono contento. Poi qua c'è una frase che, da analisi logica, se fossi certo, se fossi certo, che a partita in corso facesse la differenza, lo farei entrare a partita in corso. Quindi cosa significa? Che non è certo di questa cosa? E che quindi potrebbe giocare titolare? O addirittura che domani potrebbe non entrare? Perché per come l'ho interpretata io a livello logico mi viene da dire che domani Chiesa parte titolare. Se fossi certo che a partita in corso facesse la differenza, lo farei entrare a partita in corso. Quindi domani gioca titolare. È questo che ci stai dicendo, Max? Oppure ho capito male io? Oppure l'hai detta male te? Fatemi capire anche voi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Oggi, dopo l'allenamento, valuterò la formazione per domani sera. E infatti quando andiamo in antitesi rispetto alla frase precedente, però va bene. Magari è quello che voleva dire, non tutto quello che poteva dire. Non lo so, non l'ho capita. I punti persi con la serenità ormai sono andati. Pensiamo in avanti. Fino ad oggi ci sono stati risultati buoni e importanti, ma domani c'è un'altra partita. Nel calcio quello che hai fatto non conta più. Serve continuare nel percorso di crescita di squadra di singoli. E poi c'è ancora quella frase che a me non piace, e ve l'ho già detto nell'ultima conferenza stampa, non la voglio più sentire. Poi però, penso di aver capito perché dice questa frase, e la riprendiamo dopo, perché dice il risultato della Juve in campionato deve essere quello dei primi quattro posti, dobbiamo pensare a domani. E qua mi dà fastidio perché io continuo a ripensare a quanti anni Allegri abbia ripetuto la frase se sei la Juve devi vincere, ci sono quelli che vincono e che non vincono, quella è la differenza tra quelli che vincono e che non vincono, perché vincono sempre gli stessi, si è passati dal vincere a entrare nei primi quattro posti. La domanda è perché, provo a darvi la mia interpretazione un pelo più avanti all'interno di questo video, anche se, ripetisco, a me continua a non piacere sentirmi dire che la Juve deve lottare per le prime quattro posizioni. Nei secondi tempi cresciamo, probabilmente perché stiamo bene fisicamente. A Napoli le partite sono difficili e non finiscono mai, poi c'è la sviolinata generale di tornello in cui andiamo a battezzare ogni squadra, affrontiamo una squadra forte tecnicamente, ben allenata, ben organizzata, bla 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 bla. Qui dice, gli infortuni a destra non ci hanno messo in difficoltà. Qua sono impazzito. Sinceramente sull'esterno, per Kvara, non abbiamo preparato ancora niente. Beh, mister, domani si gioca. Te la butto lì. È la conferenza sapa della vigilia perché il giorno dopo poi si gioca. Se non abbiamo ancora averbrato niente per arginare uno dei loro giocatori più pericolosi, va bene. Ma, ripeto, spero che quel sinceramente non sia così sincero. Oggi ultimo allenamento e quindi vediamo di sistemare due o tre cosine. Poi spero di indovinare la formazione, il classico di Allegri sull'indovinare la formazione. Sarà una bellissima serata di sport e di calcio e sarà, ci avrei scommesso la casa, avrei messo una mano sul fuoco, una partita non decisiva ai fini del campionato. Ma ci avrei scommesso tutto quello che volevate. Poi dice, non è un crash test, l'altra bellissima definizione, è una partita di campionato dove noi e il Napoli veniamo dai risultati importanti. Loro possono girare intorno ai 50. Sarà importante, ma non sarà decisiva. Sarà importante per loro, non per noi, per loro. Non per noi, importante per loro. Se c'è una squadra che c'ha qualcosa da perdere, il Napoli dice Allegri. E questo ovviamente è vero. Per noi è molto importante. Perché ci sono due risultati che uno è terrificante, uno è bruttino e l'altro è molto buono. Per loro invece ci sono un risultato ottimo, un risultato molto buono, e un risultato che è meglio non prendere. Capite bene che quindi abbiamo meno possibilità noi di uscire soddisfatti domani. Noi dobbiamo vincere. Loro possono anche perdere e mantenere comunque un buon vantaggio che è ridotto abbastanza rispetto a un paio di settimane fa rispetto alla pausa mondiale. Noi se non vinciamo, rimaniamo in quel limbo di che cosa stiamo facendo questo campionato, per che cosa lo giochiamo, qual è il nostro obiettivo. Quindi Allegri già dice, è importante per loro. Vecchia volpe che non sei altro, trollatore seriale, ma questo è solo il primo pezzo, soltanto il primo pezzo che inizia a trollare. Poi dice, abbiamo ricominciato, dopo una sosta di due mesi è come un nuovo avvio di campionato. Le partite sono strane, bisogna essere bravi a giocarle. E qui ragazzi sono felicissimo di sentire, forse per la prima volta in questa stagione, Allegri dire, i ragazzi sono stati bravi. Finalmente si torna a parlare dei giocatori. Finalmente si torna a fare i complimenti ai ragazzi. Poi magari nei vari post partita li ha fatti, ma io solitamente i post partita non li analizzo perché voglio cercare di parlare della partita. I pre partite invece mi interessano perché mi interessa anche capire un po' la psicologia che c'è dietro determinati ragionamenti, determinate scelte di formazione, cercare di capire se ci sono delle novità sulle formazioni. Quindi pre partita mi interessa molto più dei post. Nei pre partita non l'avevo ancora sentita quest'anno. Vado a memoria, ma mi pare di no perché tante volte ho ripetuto. Dove è finito l'Allegri che fa i complimenti ai ragazzi? Finalmente. Poi Allegri dice, noi dobbiamo giocare una partita tecnica e di intensità. È difficile perché è uno scontro diretto. Ah, ma allora è uno scontro diretto. Ah, ecco, ecco, inizia a uscire forse qualcosina che Allegri non voleva dire. Giochiamo in casa dei più forti del campionato? Lo dice la classifica. Dobbiamo essere bravi, avere entusiasmo e voglia di giocare questa partita. Ancora qua sono frasi abbastanza di circostanza, frasi che Allegri butta sempre. In realtà all'interno della conferenza stampa e quindi direi che possiamo tranquillamente andare avanti. E poi dice, la classifica dice che chi hanno perso una sola partita hanno 44 punti. È naturale che siano i favoriti per lo scudetto. E qui, al di là dei vari giochini mentali, al di là delle varie gufatte, di quello che volete, beh, questo è assolutamente un dato di fatto e oggettivo. Spalletti credo che sia il migliore ad allenare e insegnare. L'ha fatto anche a Roma e a Milano. Due mesi fa non pensavamo e nessuno credeva di poter arrivare a questa partita in queste condizioni. Allora, questa è una grande verità. Ed è una cosa che voglio dire da giorni nei video, e poi ce ne sono talmente tante da dire che mi passa un po' in sordina. Però io arrivo a questo Napoli-Juventus e sono qui a dirvi che, come vi dicevo anche ieri, secondo me, poi è una sensazione, è quello che volete, non si perderà. Non si perderà, ma non significa che si vincerà. Per me andremo a pareggiare. Questa è la mia sensazione. Ma già questo è un passo positivo. Non dico che sia una cosa bellissima, fantastica. Però ricorderete, ricorderete qualche mese fa, quando alla vigilia di Maccabi-Juventus, io vi dicevo, ragazzi, io non vedo nemmeno la possibilità di pareggiare. Domani, secondo me, andiamo là e perdiamo. E ricordo che la gente mi diceva, ma sei negativo, sei eccessivo, e lì abbiamo perso, non abbiamo visto il pallone, sono stati distrutti dal Maccabi. Mi diceva vent'anni in Champions, ma lì non lo dicevo perché speravo che... No, perché avvertivo una sensazione, avvertivo un umore, l'atteggiamento di cui ha parlato Allegri dicendo l'atteggiamento è cambiato, dobbiamo continuare su questa strada. Disastroso, in cui calciatore e allenatore non mi fregava niente. Quello che veniva, veniva. Era il circo, era praticamente il festival della strada, il calcetto, quasi una partita della terza categoria. Invece oggi io sono qui a dirvi che secondo me domani non perdiamo. Poi magari perdiamo, però intanto la sensazione è sicuramente più positiva. E comunque mi aspetto una partita combattuta, forse anche equilibrata, forse tirata, è una partita magari che si deciderà su un gol di scardo, che magari si deciderà anche questa sul finale di partita, magari nemmeno bellissima, però è una partita tirata in cui anche il Napoli farà fatica. Questa è un po' la sensazione che ho io. Io mi aspetto una partita forse anche da 0-0, una partita da 1-1, una roba del genere. Però significa mettere in difficoltà il Napoli, un po' come magari ha fatto l'Inter, no? Qualche mese fa non sarei mai arrivato a dirvi una roba del genere. Sarei venuto a dirvi, ragazzi dal Napoli, apriamo la sporta, mettiamo dentro i palloni e quando arriviamo a casa li contiamo. Quindi già questo è un passo in avanti, che non è ancora il passo definitivo, perché ovviamente negli anni di quanto parlavamo 5 anni fa, 8 anni fa nel 2015 con Bonucci, dicevo sì, va bene, Napoli viene, ci mette in difficoltà, però è molto probabile che la portiamo a casa noi. Siamo forti, ce la possiamo fare. Non mi sento ancora dire questa roba, ma la partita di domani sera può essere un crocevia molto importante, non ancora quello definitivo, perché non andremo a superare l'Ampoli in classifica, perché non andremo ad aggiustare la stagione, perché comunque l'eliminazione dalla Champions ai gironi c'è stata e quindi questa squadra è ancora un po' così. Però già un piccolo passo in avanti e la frase successiva di Allegri è quella che mi fa capire un attimino probabilmente come sta ragionando Allegri, perché dice noi dobbiamo mantenere il profilo basso e lavorare per arrivare all'obiettivo finale. Ora la domanda da un milione di dollari è qual è l'obiettivo finale? Perché se ascoltiamo Allegri e accettiamo il fatto che Allegri sia sempre stato onesto in tutte le sue dichiarazioni e io mi dispiace non ci sto, perché non può essere così, perché conosco Massimiliano Allegri e perché non può essere così, dice il nostro obiettivo è arrivare nei primi quattro. Quindi noi dobbiamo mantenere un basso profilo per cercare di arrivare nei primi quattro quando in questo momento la condizione di classifica è molto buona e comunque nei primi quattro a meno di disastri come inizio del campionato, quindi continuando su questa buona strada con anche qualche pareggio, addirittura magari un paio di sconfitte nel mezzo, ci arrivi tranquillamente. Perché noi dobbiamo tenere il profilo basso? Ora, se dobbiamo tenere il profilo basso, benissimo, domani è una partita normale come le altre, perché Allegri una volta parlava di vittorie e oggi mi parla di quarto posto. Perché probabilmente Allegri sta ragionando, come vi dicevo prima, negli anni precedenti c'era una condizione tale per cui ci sentivamo tutti bene, ci sentivamo nella Juve vera, nella Juve che vince, nella Juve che domina, nella Juve che magari non convince ma porta a casa i risultati, gli scudetti, i trofei, le finali, i percorsi, quello che volete, e oggi siamo in una Juve indebolita. In una Juve non indebolita, nel senso più debole, non solo, ma indebolita proprio dal punto di vista mentale. Con anche tanti giocatori che probabilmente in quelle Juve là spazio per i fagioli, per i miretti, per i gliling, i sule, non ci sarebbe stato probabilmente quello spazio. Magari per uno solo, un po' come era stato per Dybala che arriva per 40 milioni a Palermo, ma è già un giocatore fatto, non un giocatore che provi a buttare dentro e ti viene su da settore giovanile. Quindi probabilmente Allegri sta cercando di inculcare a questi ragazzi l'idea che sì, sei nella Juve, sì, però attenzione, sei ancora nella Juve che ha vinto, non abbiamo vinto niente l'anno scorso, quest'anno siamo partiti male, Napoli sta correndo, loro sono i favoriti, noi manteniamo questo profilo basso, noi puntiamo ad arrivare nei primi quattro, però nel frattempo se riusciamo anche a mettere i bastoni tra le ruote al Napoli e riusciamo a portare a casa un risultato diverso dalla sconfitta e dal pareggio, perché io domani sera voglio vincere anche se mi aspetto che Allegri comunque dato che ragiona su una partita non decisiva si accontenti anche del pareggio, ma non vada in lì per dire voglio pareggiare al 100%, intanto non voglio perdere, poi se arriva la vittoria va bene, però anche questi giocatori ma anche quelli più esperti non solo i giovani vadano a capire che non siamo quelle Juventus vecchie. Io però vorrei invece in realtà quel passo in avanti e spero che nella testa dei giocatori in allenamento, fuori dai microfoni, fuori dalle conferenze stampe pubbliche, fuori dalle dichiarazioni che ascoltiamo tutti, Allegri sta iniziando a mettere il tarlo del sì però questi se poi perdono domani, cavolo ne hanno perse due nelle ultime tre, è quel vantaggio che sembrava volevano arrivare a 100 punti, vincere lo scudetto, beh attenzione perché poi siamo a meno 4, c'è un altro scontro diretto, c'è un altro girone intero più un'altra partita, potrebbero rischiare di, sono campioni inverno, sì certo, ma non è quello che conta, è quello che conta essere campioni a maggio-giugno, quindi credo che questo sia il ragionamento di Allegri ma allo stesso tempo spero che sia il ragionamento di Allegri in pubblico, non il ragionamento di Allegri anche in privato all'interno della squadra, perché anche l'anno scorso tante volte lui continuava a dire no, l'Inter la favorita, qui e là, su e giù, e poi si è capito che quel Juventus-Inter che si è giocato allo stadio dove aveva perso una zero, una delle migliori prestazioni dell'anno, per Allegri era la partita della svolta e vedeva in quella partita la possibilità di rientrare nel discorso scudetto e vincere anche l'anno scorso, che si è capito palesemente nelle conferenze successive in cui lui continuava lì a dirgli eh ma lo scudetto, eh la partita, lo scontro diretto, poi siamo scoppiati, siamo morti, siamo proprio andati giù, perché probabilmente tutte le energie fisiche e nervose erano concentrate in quella partita lì e una grande squadra comunque anche se perde quella partita va avanti, cosa che non eravamo l'anno scorso, cosa che non siamo ancora adesso, ma per quello che vi dico che la partita di domani sera, sì, probabilmente non è decisiva, perché come fa a una partita essere decisiva a 20 partite dalla fine, ma allo stesso tempo lo è, per me allo stesso tempo è sia decisiva che non decisiva, un po' la partita di Scherrodinger, diciamo così, quindi non so se avete seguito il mio ragionamento, se fila, se l'ho capito solo io, io mi sono capito, l'importante è che mi sia capito io, diciamo così, e poi dice, io ho grande stima di Luciano Spalletti Spalletti, e buffo e divertente e ogni tanto litighiamo, poi la battuta, perché gli chiedono, sì ma scusami, ma tu fai un altro mestiere, tu hai vinto tanto, perché dici che Spalletti è uno dei più bravi ad allenare e ad insegnare, e lui dice, io non sono un allenatore, faccio questo mestiere per sbaglio, devo fare un'altra roba, qua, proprio, mi ha raggiunto i livelli di troll, mai visti nella storia dell'uomo, qua proprio Allegri, scherza, gioca, si diverte, dice cose che probabilmente gli hanno detto mille volte, io sono convinto che lui legga tutto, questa è una risposta che dà solo uno che legge quello che gli dico, non sei un allenatore e devi fare altro, io non sono un allenatore, lo dice lui, lo dice lui, così perde efficacia, così perde, quello che gli dicono perde, diventa meno, ma lui lo sa, ma dai, ma 200%, e poi dice, ma è bello affrontare, non è più bravo di insegnare e di allenare, lo ripete, lo ripete, ma qui, dice una cosa, secondo me molto onesta sul suo mestiere, lui non è bravo ad insegnare, Allegri non è bravo ad insegnare, non è l'allenatore che prende, se vuoi iniziare un progetto, con dei ragazzi che non ha mai giocato a questi livelli, che è un po' il ragionamento che facevamo qui sul canale quando vi dicevo, sì, vabbè, prendi Allegri, però qual è l'idea della Juve? Che se l'idea della Juve è continuare un percorso di crescita come quello che avevi iniziato a compirlo, Allegri non è la terra giusta, Allegri è la terra giusta per gestire, per avere la squadra già pronta, i campioni, i giocatori forti e vuoi arrivare agli obiettivi, perché? Perché Allegri va in conferenza stampa, va in campo, quando si allenano, quando nello spogliatore dà la formazione per scendere in campo e ti dice dobbiamo vincere, se Allegri invece deve allenare una squadra di giocatori che a quei livelli non ci sono mai stati, non ci hanno mai giocato, non ha mai vinto, sono ancora troppo giovani per esserci stati, cosa dice? dobbiamo lavorare per arrivare nei primi quattro posti, dobbiamo mantenere il profilo basso, credo che qui ci sia un po' tutta l'essenza di Massimiliano Allegri, della consapevolezza dei suoi limiti e della consapevolezza dei suoi punti di forza, e infatti dice Spalletti è il più bravo ad allenare e ad insegnare, io non alleno, io non sono un allenatore, questo Allegri, ricordate, diceva ci sono due tipi di allenatori, quello che allena durante la settimana e quello che allena durante la partita, perché non sai se tutto quello che hai provato durante la settimana dopo cinque minuti ti cacciano fuori uno e poi come la metti a posto, queste sono parole di Allegri al club quando non allenava era libero di dire quello che voleva, infatti lui dice io non sono un allenatore, a me non piace allenare durante la settimana, a me piace la partita, domani sarà una grande serata di calcio e sport, sarà una bellissima partita, Allegri, una delle più grandi caratteristiche di Massimo Emiliano Allegri, quale è sempre stata, la capacità di leggere la partita, rifare i cambi anche folli, che lì per lui li guarda e dice ma che cosa stai dicendo, perché facciamo sto cambio, ma non ha senso e poi quel cambio te lo vince, clamoroso il cambio con il Tottenham, cui cambia i terzini, dici ma che cacchio fai, i terzini poi diventano determinanti fino ai risultati prima passare il turno in rimonta, questo è Massimo Emiliano Allegri, è diverso da Spalletti, completamente diverso da Spalletti, due progetti opposti, Juve Napoli, due squadre opposte, Allegri, Spalletti, due ideologie opposte nel calcio, che è un po' quello che vi dicevo ieri, andatevi a vedere il video ieri, vi dicevo Juve Napoli, filosofie completamente diverse, se vogliamo estremizzare, vogliamo estremizzare attacco contro difesa, spada contro scudo, questa sarà la partita di domani, chi vince non c'è scritto da nessuna parte, non c'è una regola, non c'è una cosa scritta nella pietra, un comandamento che dice quando si affrontano attacco contro difesa vince sempre uno, vince sempre uno, non c'è scritto da nessuna parte, domani sarà aperta perché loro sono la squadra che in fase di possesso probabilmente sono i più forti in Italia, anche i più belli, e noi siamo la squadra più rognosa e più efficace nel portarsi a casa la pagnotta e nel non subire i gol, lo dicono le due colonne, gol fatto, gol subito, Massimiliano Allegri in questa conferenza stampa è andato oltre, quello che vi dicevo all'inizio, magari qualcuno non l'ha colta, spero di avervelo fatto capire io con questo video di analisi, ma io mentre guardavo la conferenza stampa dicevo ma io non posso credere ai miei occhi, non posso credere a quello che sto sentendo, Massimiliano Allegri veramente sta dicendo cose apposta per, e perché poi cosa dice, no? Io ho grande stima di Luciano, è buffo e divertente ed è per questo che ogni tanto litighiamo dopo la partita come l'anno scorso, ricorderete, quando siamo andati al Maradona, era tipo la seconda partita di campionato, la terza, siamo andati in emergenza perché mancavano tantissime persone, si sono presi in bisticciato, questi sono due toscani, sono anche due uomini di altri tempi, ma allo stesso tempo, scusate la ripetizione, con una filosofia completamente diversa applicata al calcio, uno fa l'allenatore e uno fa il gestore, poi ovviamente tutti e due, allenatore Napoli, allenatore Juventus, però c'è una differenza grande, 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 grossissima, spero che vi sia piaciuto anche un po' questo, andare un po' più nel dettaglio perché secondo me è anche interessante cercare di capire perché si dicono certe cose, perché si dicono in un momento specifico della stagione, perché si dicono nella vigilia, perché si dicono anche con quel tono, perché si dicono adesso e non si dicono prima, si dicevano prima non dici più adesso, queste secondo me sono delle sfumature che nel calcio vengono sempre lasciate un po' lì, adesso come sono molto importanti e molto interessanti e poi conclude dicendo vabbè per loro è molto importante più per loro che per noi perché? perché noi dobbiamo mantenere il basso profilo e invece loro? Loro sono la squadra più bella, più forte del campionato guarda la classifica ne hanno persa una possono concludere il giorno d'andata a 50 punti significa una proiezione di 100 è importante per loro per noi? no, noi dobbiamo arrivare nei primi quattro dobbiamo mica vincere lo squadetto come loro conferenza stampa che mi è piaciuta tanto questa tante volte ci siamo trovati qua a dire non mi sta convincendo non mi sta piacendo questa mi è piaciuta questa mi è piaciuta però spero allo stesso tempo che certe cose non le pensi davvero perché un conto è se le pensa al contrario e le dice solo per se si è convinto anche lui di tutte queste cose diventa un problema se invece gioca scherza e trolla come credo che stia facendo in questo momento in uno specifico allora ci sta è per quello che vi dicevo certe cose le puoi dire quando vinci o quando le cose vanno bene non quando le cose non vanno bene e tante volte quando sentivo dire magari anche delle frasi simili quando alla vigilia della partita col Maccabiro qua a dirvi ragazzi secondo me magari prendiamo un sacco e una sporta non mi andava giù in questo momento in questo momento devi mettere pressione è come metti pressione a una squadra che probabilmente negli ultimi anni dei campionati li ha persi anche per la pressione perché comunque Napoli ha fatto degli anni ricorderete tutti quell'anno dei 91 punti in cui ci vengono a battere a Torino con il gol di Coulibaly io ho ancora le mutande sporche e ricordo ancora la sensazione ricordo il mio video post partita lì ero convinto di perderlo scudetto pensavo che tutto fosse finito invece poi per fortuna la storia dice altro loro vanno a Firenze ne prendano tre da Simeone che domani gioca da loro che ora gioca da loro e che domani potrebbe giocare contro i noi e restituire un po' un favore al Napoli a danni di distanza tutto intrecciato tutto clamoroso su Agnelli c'è poco da dire risultati e lavori in 12 anni il presidente della Juventus sparano per lui lo ringrazio personalmente per la possibilità che mi ha dato di allenare la Juve di starmi vicino e lavorare per tutti ah quindi alleni la Juventus quindi sei un allenatore anche qua piccole sfumature su piccoli dettagli su cose dette non dette dai fanno piacere fatemi sapere un po' la vostra lettura anche qui sotto nei commenti perché secondo me questa è una conferenza stampa molto importante grazie a tutti